L'auditorium non è pronto. Mattarella, ospite del Galà Rossini. Promessa mantenuta. Anche Vallefoglia avrà il suo punto vaccinale. Ladri di mascherine rubate duemila da una casa di riposo. Musica metti Uli in concerto all'Anfiteatro del Miralfiore. Mercoledì 30 giugno, buona serata, benvenuti al nostro Rossini News. In apertura parliamo di ospiti importanti che arriveranno nella città di Pesaro. Infatti nel telegiornale di ieri vi abbiamo annunciato la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pesaro il prossimo 22 agosto come ospite del Galà di chiusura del ROF 2021. Appuntamento che a differenza di quanto preventivato per la chiusura del festival si terrà in Piazza del Popolo anziché nel nuovo auditorium che si sta allestendo al posto del vecchio Palace di Via dei Partigiani. Quindi facciamo il punto sui lavori di questa nuova struttura, su come stanno andando in questo primo servizio. Proseguono i lavori al vecchio Palace Porti Viale dei Partigiani, ormai prossimo a diventare il nuovo auditorium della città di Pesaro. Decade però l'idea di poterlo inaugurare per l'evento di chiusura delle Rossini Opera Festival 2021. A cambiare le carte in tavola il gratificante annuncio della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Galà di chiusura del ROF 2021. Ma un conto è adeguare una struttura in forma provvisoria per l'accoglienza di un singolo concerto, un altro predisporre i requisiti e i vincoli di sicurezza per ospitare il Capo dello Stato. Da qui la decisione di deviare l'evento in una più adeguata piazza del popolo rispetto a un Palace Porte i cui lavori, stando tra l'altro convivendo con cambi di ditta, intoppi nelle forniture e adeguamenti energetici. Devo dire che l'arrivo del Presidente della Repubblica è sempre un grande evento e quindi è una grande operazione del Sindaco per riuscire a portare a Pesaro la personalità più importante del nostro Stato. Noi stiamo lavorando con la ditta a doppi turni sul Palazzo dello Sport e se voi passate anche adesso potete vedere quante persone ci sono all'interno del cantiere. Ovviamente ospitare il Presidente della Repubblica in un contenitore richiede delle garanzie dal punto di vista della sicurezza importanti che in questo momento non siamo in grado di garantire. Questo non vuol dire che da qui ad agosto-settembre buona parte dei lavori, diciamo il grosso dei lavori, non sarà terminato. La ditta continua a lavorare con lo stesso spirito, con lo stesso ritmo e con ovviamente oggettive difficoltà nel reperimento del materiale. Come si può constatare anche nei cantieri quelli di casa si sta attraversando un periodo particolarmente complicato, i prezzi sono aumentati, le forniture sono rallentate. Nonostante questo il progetto Palazzo Sport sta andando avanti, è un progetto che abbiamo rafforzato nel corso degli ultimi mesi anche attraverso la valorizzazione energetica dell'impianto. Nel progetto iniziale l'efficientamento energetico, cioè portare il Palazzo dello Sport ha una qualità energetica in Zeb per capirci come la scuola Olivieri di Via La Marmora non era previsto. Abbiamo voluto fare anche questo passo perché nel momento in cui si costruisce una struttura nuova, moderna nel cuore della città l'efficientamento energetico diventa una delle cose, oltre a quello strutturale, diventa la cosa più importante anche dal punto di vista della gestione futura dell'impianto. Ripeto, noi stiamo lavorando, la ditta sta lavorando a pieno ritmo e ovviamente abbiamo perso i mesi del Covid dove oggettivamente più di un tot di operai in cantiere non ci potevano stare. Adesso lavorano 40-50 unità ogni giorno tra operai e tecnici all'interno del cantiere. Prima ce ne potevano stare dai 6 ai 10. Quindi superati quei mesi di grande difficoltà sono ripartiti a pieno ritmo, a pieno regime, tant'è che abbiamo le proteste per il rumore per la polvere alle 21. Di solito succede il contrario che la gente ci chiede come mai non c'è nessuno a lavorare. Qui sono in molti, il lavoro è un lavoro complesso, sono diversi milioni di euro e noi continuiamo a lavorare per provare ad avere la struttura pronta e funzionale quanto prima. Ed ora ci spostiamo a Vallefoglia perché finalmente anche questa città avrà il suo punto vaccinale di prossimità. Sono stati infatti accolti i reiterati appelli del sindaco Palmiro Ucchielli per aprire un hub nel distretto Azur, casa della salute di Montecchio, che sarà ufficialmente aperta il 7 luglio e somministrerà vaccini alla popolazione del territorio comunale ogni mercoledì pomeriggio. Attraverso una nota ufficiale il sindaco Ucchielli ha pubblicamente ringraziato l'impegno della direttrice del distretto sanitario Elisabetta Esposto per l'impegno profuso a questa apertura. Ed ora il consueto spazio dedicato agli aggiornamenti da Covid-19. Resta infatti contenuta all'1,2% la percentuale di tamponi positivi al contagio da Covid-19 nella regione Marche. Oggi si sono registrati 15 casi positivi nelle Marche, di cui 2 nella provincia di Pesarurbino su 1.227 nuove diagnosi per un totale di 2.458 tamponi. Continuano a scendere i ricoveri regione. Ora sono appena 20, di cui 4 in terapia intensiva. Ed ora la cronaca. A Fano alcuni ladri si sono resi protagonisti di un vile furto di mascherine chirurgiche da una casa di riposo. Ne sono state rubate 2.000 dalla residenza per anziani fanese Famila Nova di via Malvezzi. È accaduto alle 15.30 quando sono stati sottratti 4 scatoloni sigillati appoggiati all'ingresso della struttura. Probabilmente i ladri pensavano di trovare ben altro all'interno delle scatole, ma il furto già condannabile di per sé diventa ancor più incommentabile in quanto effettuato nei confronti di una casa di riposo. Ed ora restiamo a Fano, ma per parlare di tutt'altro argomento. Dopo un anno di stop dovuto appunto al Covid-19, tornano i giovedì sotto le stelle dedicati ai più piccoli. Appuntamenti che rientrano fra le celebrazioni del trentennale di Fano, città delle bambine e dei bambini. Quando si gioca, capita di dover saltare un turno, per poi però ripartire con ancora più sprint. È il caso dei giovedì sotto le stelle, l'iniziativa che tutti gli anni d'estate una volta a settimana trasforma Piazza 20 Settembre in un grande parco giochi a cielo aperto. Quasi tutti gli anni a dirla tutta, perché nel 2020 il Covid-19 ha costretto il comune di Fano a fare un passo indietro. Ma ora è di nuovo tutto pronto. Dal 1 luglio al 2 settembre quella del giovedì tornerà a essere la serata del gioco e del divertimento dedicata ai più piccoli. Ogni giovedì ci sarà un'associazione diversa che proporrà ai bambini giochi vari. Quest'anno sicuramente rispettando ancora tutte le norme di sicurezza per il Covid, però insomma cercheremo anche di ospitare più bambini possibili, magari divisi in gruppi, eccetera. Le tematiche sono quelle classiche della città dei bambini, quindi l'ambiente, l'educazione, la solidarietà, tutte a sfondo giocoso e divertente. Si inizia domani 1 luglio dalle 9 alle 11 in piazza. Ci sarà una passeggiata a sfondo storico, quindi sempre educativo, però in modo giocoso, con costumi, cose varie, facendo un giro, un gioco itinerante nei luoghi storici della città, dall'Arco d'Augusto a Porta della Mandria fino alla piazza. Ci saranno anche spettacoli che coinvolgeranno direttamente i bambini, ci sarà anche il nostro gruppo di Stefania Carboni, più avanti questo in agosto. Stefania Carboni e Giorgio Caselli che riproporranno Rodariando, ma ci sarà Legambiente che farà dei laboratori dei giochi sull'ambiente. L'Avis che proporrà dei giochi addirittura individuali per i bambini sul valore della donazione, della solidarietà e altre cose di questo genere. Il calendario completo lo pubblicheremo a breve e comunque potete trovare sempre la comunicazione sulla pagina Facebook della città dei bambini. Ma non è tutto, perché quest'anno i giovedì sotto le stelle avranno un valore aggiunto, quello di contribuire alle celebrazioni per i 30 anni del grande macro progetto ideato proprio per i più piccoli, niente meno che fanno città delle bambine e dei bambini. Per questo trentennale della città dei bambini è una serie di eventi molto ricca e molto articolata. Il programma è partito, è stato avviato in aprile e durerà fino a maggio dell'anno prossimo, quindi del 2022, quando finalmente riusciremo a rifare la città da giocare, invadendo la città di bambini che si muovono alla città e giocano. 30 anni sono un numero significativo, significa che si è fatta tanta strada, tante esperimenti, esperienze e i risultati ci sono visti e ci portano ad avere una vetrina nazionale e internazionale. In occasione del trentennale c'è stato un ricco programma di eventi celebrativi e non solo. Tra questi sono anche tante attività che diventano eventi singoli, siamo in piena estate e quindi diventano anche attività di promozione e oggi abbiamo presentato il giovedì sotto le stelle. Mi fa molto piacere perché è anche un messaggio forte, visto che lo scorso anno non era stato possibile organizzarlo. Noi sappiamo che durante la pandemia coloro che sono stati tra quelli più colpiti, le bambine e i bambini, che hanno dovuto sacrificarsi e sappiamo benissimo il desiderio che i bambini hanno nel poter essere espansivi, nel poter socializzare, nel poter condividere momenti anche di gioco. Ecco, con questi eventi, pur nel rispetto delle regole, con tutte le prudenze, però in modo di tornare alla quasi normalità. Quindi è un bel messaggio di prospettiva e di fiducia, ma è anche una bella iniziativa che piace i bambini, piace i genitori ed è anche, visto che siamo città turistica, anche un'occasione per i bambini che vengono a fare una vacanza da piccolo principe nella nostra città. Rossini TV ha sempre, come ben sapete, a cuore l'attenzione alle tematiche relative ai nostri amici animali domestici e voi telespettatori ce lo dimostrate seguendo con grande attenzione e con grande passione il nostro programma Qua la Zamba, che tra l'altro andrà in onda questa sera alle 21.15. Ora però, in questo prossimo servizio che vedrete, vogliamo concentrarci sul momento più drammatico e delicato, quello della gestione della morte dei nostri cani e gatti. Ne abbiamo quindi parlato con l'unica agenzia di onoranze funebri a Pesaro che fornisce il servizio di cremazione di animali domestici. Noi sì, nasciamo come impresa di onoranze funebri principalmente per i nostri cari, per gli esseri umani, ma abbiamo voluto conciliare questa cosa per gli animali in quanto noi stessi possessori e amanti di animali, io personalmente ho tre cani, non abbiamo mai avuto un metodo di sepoltura adeguato a queste persone, io le definisco, anche se sono amici a quattro zampe veri e propri. Amici perché stanno con noi l'intera vita, ci danno tanto affetto, non chiedono mai nulla, sono sempre allegri, non provano rancori, quindi è una forma di amore puro che provano per noi, cosa che magari noi umani non riusciamo ad esprimere al 100%. Quindi abbiamo deciso di intraprendere questa strada anche per gli animali con l'assoluto rispetto che abbiamo anche per gli esseri umani. Quindi alla stessa stregua noi ci recchiamo presso le abitazioni, dai veterinari, ovunque il cliente ce lo richieda e ovviamente applichiamo la cremazione di questi amici a quattro zampe, di questi nostri cari se vogliamo definirli così. Le cremazioni ovviamente sono di due tipologie, premetto che noi non facciamo smaltimento, sono due cose con cui ci si confonde spesso. Alcuni dei miei colleghi che non sono qui nelle zone, noi siamo gli unici a farlo a Pesaro, Riccione, Misano e nell'entroterra, dopodiché ci spostiamo giù nel Fanese piuttosto che nel Bolognese. Lo smaltimento è quello che solitamente si faceva una volta o comunque alcuni colleghi ancora fanno. Quindi gettare il nostro amico a quattro zampe in mezzo, scusate la parola, ai rifiuti, quindi smaltirlo tramite era appunto che comunque lo inserisce nei rifiuti di categorie speciali. Noi invece facciamo solo ed esclusivamente cremazione. Cremazione ovviamente abbiamo un forno dedicato esclusivamente agli animali dove vengono cremati solo ed esclusivamente animali. Si possono avere due ovviamente forme di cremazione. La prima è una cremazione collettiva in cui il nostro amico a quattro zampe viene cremato solo ed esclusivamente con altri animali domestici. Ovviamente in questo caso le ceneri non vengono restituite perché sarebbe assurdo ridare comunque un po' di cenere del proprio animale mescolato ad altri. Poi invece c'è la cremazione singola. Ha la stessa stregua degli esseri umani. Ovviamente la cremazione singola viene comunque cremato solo ed esclusivamente il vostro amico a quattro zampe. Da solo vengono raccolte le ceneri e vengono messe in un'urna che noi comunque forniamo e in quel caso vengono restituite le ceneri come negli esseri umani. In entrambi i casi vengono fatte comunque verbali di cremazione e ci sono le esislazioni ben precise su queste cose in cui comunque sia sono alla stessa stregua appunto per noi umani. Quindi è un vero proprio crematorio paritetico parallelo a quello degli umani. E alle volte cerchiamo anche di consigliare. Non vogliamo fare cose inutili e sprechi inutili. Quindi cerchiamo sempre come per gli umani di analizzare bene anche il lato scusate se ne parlo economico perché alle volte non dipende da noi si vorrebbe sempre fare tanto ma purtroppo oggi come oggi non si arriva dappertutto neanche economicamente. Alla gola del furlo c'è un pericolante masso di 10 tonnellate che rischia di staccarsi e cadere da un'altezza di 80 metri sulla strada attualmente chiusa al traffico e sul bacino idrico sottostante. Una criticità appurata dall'analisi tecnica richiesta dai comuni di Fermignano e Acqualagna che ha innescato ora l'iter per stabilire il piano di risanamento e messa in sicurezza della gola. Comincia domani in Piazza del Popolo l'edizione 2021 di Pop Sofia, festival della filosofia del contemporaneo che si terrà a Pesaro fino a sabato 3 luglio. Paradisi artificiali è il tema di questa undicesima edizione che omaggia il 200esimo anniversario della nascita del poeta francese Charles Baudelaire. Quella dell'autore dei fiori del male non sarà l'unica ricorrenza. La giornata del 3 luglio sarà infatti interamente dedicata a Jim Morrison nel giorno del cinquantesimo anno della morte del cantante dei Dors. Ospiti della prima serata saranno Alfonso Amendola, Filippo Laporta e Vera Gheno. Partono le rassegne estive dell'orchestra sinfonica Rossini con tre grandi concerti in tre giorni. Si comincia sabato 3 luglio alla Rocca Malatestiana di Fano con Led Zeppelin, il martello degli dei. In scena la White Summer Cover Band con l'arrangiamento del maestro Roberto Molinelli. Domenica 4 luglio all'eremo di Montegiove andrà in scena l'opera di Giuseppe Verdi, Il Trovatore, in versione Smart, diretta da Norris Borgoggelli. Lunedì 5 luglio al Parco Miralfiore di Pesaro ci sarà il concerto Xanitalia con DJ Ralf assieme all'orchestra sinfonica diretta e arrangiata da Daniele Rossi. Lo sport come mezzo di socialità e di educazione nel pieno rispetto di compagni e avversari. E' questo il messaggio alla base della consegna della targa etica avvenuta ieri da parte di Angelo Spagnuolo, presidente del Panathon Club di Pesaro e Alberto Paccapelo, vicepresidente del distretto Italia Panathlon International. A ricevere la targa etica sono stati il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, Ario Costa, il direttore sportivo Stefano Cioppi e il brand ambassador Walter Magnifico, oltre ai ragazzi del settore giovanile bianco-rosso. Ed ora passiamo allo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che oggi dedichiamo a due foto di due nostri telespettatori che ci mostrano criticità legate ai parcheggi a Pesaro. La prima immagine c'è stata inviata da un residente di via San Felice a Pantano che lamenta come da mesi siano lasciate in sosta diverse roulotte e caravan che sottraggono stalli a chi abita proprio in quella via. In quest'altra foto invece, che si riferisce a Viale 24 maggio, si sottolinea come dal 18 giugno, pensate, questa serie di cartelli e transenne messi in corrispondenza di una serie di buche sulla pavimentazione stradale abbiano tolto 10 posti macchina. Residenti che in entrambi i casi lamentano nei confronti del Comune di Pesaro una situazione che si sta trascinando. Continuate quindi a scriverci, inviateci foto o video al nostro numero WhatsApp che ormai conoscete per le segnalazioni. Continuano gli appuntamenti al Parco Miralfiore, sabato 3 luglio infatti alle ore 21 in occasione della seconda serata della rassegna Interludio. Ad esibirsi sarà il sound scatenato di Matthew Lee che torna nella sua città natale proponendo il suo show Blues Rock and Love. Daniele Sacchi questa mattina lo ha intervistato. Siamo con Matthew Lee nell'anfiteatro del Parco Miralfiore dove Matthew Lee si esibirà il prossimo sabato 3 luglio in occasione della rassegna Interludio. La musica di Matthew Lee è da tempo andata oltre i confine però torna nella sua città dove tutto è cominciato e immagino è sempre una sensazione particolare. Sono felicissimo. A parte il fatto che ricominciamo a suonare da qualche giorno, noi siamo in tour da qualche giorno e non ci fermeremo più penso. Tornare a Pesaro è ovviamente una gioia perché sai che puoi suonare dappertutto, puoi fare New York, Parigi, andare dove vuoi a Londra ma poi quando vieni a Pesaro tremano sempre un po' di più le gambe, c'è sempre un po' più l'emozione perché è dove sono nato, è casa mia quindi è sempre un piacere. A casa tua però mancava ancora il Parco Miralfiore, una location particolare all'aperto che anche la stessa città sta riscoprendo. Guarda questa è una location bellissima. Infatti anni fa mi dicevo chissà se un giorno sono e non ero qua perché vedevo questa location che però non veniva proprio sfruttata al massimo invece adesso con questa manifestazione credo che partirà un nuovo ciclo di concerti quindi insomma sono felice anche di essere qui, guarda che bel posto, bellissimo. Ecco, chi si siederà alle tue spalle, che proposta vedrà del tuo repertorio? Beh, vedrà sicuramente Rock'n'Roll perché quello non può mancare, le mie origini. Poi ovviamente l'ultimo disco, Rock'n'Love, che io avevo fatto appena in tempo a presentare al Teatro Rossini di Pesaro l'ultima volta nel 2020, poi dopo ovviamente si è interrotto tutto perché era appena uscito il disco ma si è interrotta la promozione, si è interrotto tutto per via del Covid e quindi ricominciamo proprio adesso a riproporre le canzoni dell'album, ci sono tante novità, la mia band tra l'altro è allargata quindi oltre alle persone che avete visto già al Teatro Rossini alla fine del 2020 ci sono nuovi musicisti, abbiamo aggiunto oltre ai miei classici abbiamo aggiunto Mecco Guidi all'Emond, un grandissimo tastierista e mondista che è con Cremonini anche e uno dei chitarristi di Bennato che è Gennaro Porcelli, un grandissimo bluesman e sarà proprio qui sul palco insieme a me. Ogni anno un tour diverso però il primo tour post pandemia forse ha un sapore particolare, quello di apprezzare ancora di più quella che doveva essere la normalità come esibirsi sul palco. Io non ce la facevo più, questa è la verità, quindi tornare a sonare dal vivo e veramente ricominciare a respirare sul serio, noi musicisti siamo stati colpiti in particolar modo perché sai i concerti, i spettacoli è l'ultima cosa che parte, che riparte, meno male che stiamo ripartendo quindi però come scrivevo sui miei post di Facebook veramente credo che non mi fermerò mai più nella vita quindi questo è stato veramente l'ultimo periodo possibile di fermata, quindi insomma si suonerà sempre, basta, finito. E dalla musica passiamo alla letteratura in modo particolare alle celebrazioni dantesche, il pesarese Paolo Montanari ha scritto un volume molto particolare che mostra quanto la figura del sommo poeta sia tuttora connessa alla cultura contemporanea, quindi ascoltiamo la sua intervista. Paolo Montanari autore di Esplorando Dante e la Commedia, una pubblicazione che arriva in un anno molto particolare, quello delle celebrazioni dantesche del 700 anniversario, del settecentesimo anniversario di Dante Alighieri, perché questa pubblicazione? Allora ti ringrazio per il tuo intervento, a dire il vero in questi due anni di Covid ho scritto tre libri, quindi in pratica non è che sono stato in cattività oziosa, ho scritto a casa, ho scritto un'introduzione critica a Pirandello, un libro su Leopardi, filosofo e poeta e questo è il vero primo saggio critico che faccio su Dante, ma è un libro diverso dai soliti libri commemorativi o celebrativi su Dante, perché ho voluto dare un'impostazione da una parte divulgativa, cioè per rendere il libro di facile comprensione a tutti, nello stesso tempo ho voluto evidenziare alcuni aspetti nuovi, cioè come ad esempio il pensiero di Dante, l'opera di Dante è attuale, è attuale, i giovani amano ancora Dante, comprendono Dante, la cosiddetta pop commedia di Dante è conosciuta, è amata, poi il rapporto con il teatro, il rapporto con il cinema, fino alle opere, le ultime opere, pensiamo alle opere degli anni 2000, fino al Dante TV di Greenway, che è stata un'opera rivoluzionaria nel cinema e nella televisione, tanto che vinse il Prix Italia, quindi tutto un insieme di sollecitazioni artistico-culturali. Nel teatro non solo parliamo delle origini del teatro, ma arriviamo anche all'esperimentazione del living theatre, arriviamo alle nuove performance teatrali, poi il rapporto con la cultura di autori del Novecento, Pound, Elliot, Borges, quindi un libro che spazia non solo sull'opera, sull'analisi dell'opera, sui personaggi danteschi, sul rapporto tra Dante e Viator e la sua terra, il Casentino, poi le varie città dantesche, Forlì, Ravenna e poi le Marche, anche Pesaro, Fano, Fano sicuramente viene visitata da Dante, ma sembra che vengano fuori anche qualche documentazione che riguarda Pesaro, fino ad arrivare a San Benedetto. Poi c'è la vita, poi c'è un aspetto bibliografico e la ciliesina sulla torta, che secondo me non doveva mancare, la lettera pastorale recentissima di Papa Francesco che esalta appunto la figura del sommo poeta. Siamo arrivati anche questa sera alla fine del nostro telegiornale, quindi subito vi andiamo a raccontare quella che sarà la programmazione di Rossini TV. Infatti partiamo questa sera alle 20.15 e in replica alle 22.30. Vi racconteremo questo reportage di questo evento che c'è stato venerdì 25 giugno dal titolo La meravigliosa vita delle api. Protagonisti, li vedete nella foto, il professor Accinelli e l'attrice Marianna Morandi. Mentre alle 21.15 non perdetevi l'ultima puntata di Qua la Zampa, questo format di grande successo in collaborazione con Comis che appunto giunge al termine. Chiaramente vi ringraziamo per le foto che ci avete mandato dei vostri amici animali, non perdetevi quindi questa sera l'ultima puntata. E continuiamo a ricordarvi sempre di scaricare l'applicazione di Rossini TV gratuitamente sul vostro cellulare per essere informati, vedere la nostra rassegna e il telegiornale anche quando siete fuori casa. Ed ora è il momento di passare la parola al meteo per i prossimi giorni, noi invece ci vediamo domani mattina puntuali alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa.